I fondi investiti per il complesso archeologico di Aquinum in Castrocello servono per la messa in sicurezza degli immensi beni restituiti dalla terra. I turisti non ci sono perché quel sito è ancora chiuso al pubblico, soprattutto d'inverno. Il sindaco di Castrocello Materiale ed il presidente del Consiglio Cerasi fanno il punto della situazione sugli scavi e rispondono così alle accuse che arrivano dall'opposizione. L'amministrazione che ho l'onore di guidare, afferma Materiale, è orgogliosa del lavoro che sta portando avanti per rendere fruibili dei beni ammirati da tutti. Il primo cittadino ha sottolineato che l'opinione pubblica guarda con ammirazione a queste scoperte, rimanendo stupita che un piccolo comune come Castrocello possa salire così agli onori delle cronache grazie ai lavori che ogni anno portano alla luce un pezzo di vita dell'antica Aquinum. Quando tutti i lavori saranno conclusi si potrà aprire l'area archeologica ai visitatori che potranno quindi ammirare una seconda Pompei. L'amministrazione, conclude Materiale, è rammaricata di non poter rispondere positivamente alle tante richieste di visite che vengono inoltrate, ma nessuno potrà impedire il corso degli eventi e la valorizzazione dei beni presenti sul territorio.